La nostra regione è interessata da una modesta circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità associata a precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio, una situazione destinata a migliorare nel corso della giornata di sabato grazie all'allontanamento del vortice depressionario verso il Mediterraneo orientale con conseguente espansione di un campo di alta pressione in direzione della nostra penisola, alta pressione che sarà supportata in quota da un promontorio di natura subtropicale, pertanto oltre a riportare condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato favorirà anche un consistente aumento delle temperature. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 24 aprile iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con residui piovaschi che potrebbero interessare il settore sud orientale della nostra regione. La tendenza sarà per un rapido miglioramento con cielo che tra il pomeriggio e la serata si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in aumento nei valori massimi, venti moderati da nord-est con tendenza a diminuire di intensità dalla serata, mare poco mosso sotto costa localmente mosso a largo. Domenica 25 condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Da segnalare qualche banco di nebbia che potrebbe interessare le vallate e pianure interne nel corso della notte e al primo mattino. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi, compressi tra i 20 e i 22 gradi centigradi, venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente meridionale, mare quasi calmo o poco mosso. Tra lunedì e martedì l'alta pressione tenderà ad interessare più direttamente la nostra regione, determinando un ulteriore aumento delle temperature con valori che su molte località potrebbero sfiorare i 25 gradi centigradi. Cielo che si presenterà poco nuvoloso con formazione di nubi stratiformi, nuvolosità che tra martedì e mercoledì potrebbe però determinare qualche piovasco sparso segnatamente sul settore centro-settenzionale della regione. Le temperature si manterranno su valori elevati, ben al di sopra della media del periodo, almeno fino a giovedì 29 aprile. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.